Noi chiediamo alle istituzioni sovraordinate, che sono Conferenza Stato di Regioni, per le proposte, il Ministero della Salute e il Governo, di rivedere il tetto di spesa per il personale, perché il PNRR dà grandi finanziamenti per i luoghi di cura, quindi case della salute, ospedali di comunità, eccetera, eccetera. Ma poi c'è bisogno di personale e noi oggi siamo in una situazione paradossale, cioè noi non possiamo assumere e quindi non possiamo procedere alla stabilizzazione dei precari, però paghiamo di più cooperative esterne o medici in pensione per coprire i turni di lavoro. Noi chiediamo che il Governo prenda atto di questo, che il Ministero del Tesoro, nella figura dei suoi dirigenti, guardi come stanno le cose e trovi una soluzione per permetterci di stabilizzare i tanti precari che hanno acquisito professionalità. Un impegno che parte da una mozione nostra, dove chiediamo al Governo nazionale di stanziare risorse adeguate per rispondere alle esigenze dei precari, ma soprattutto del settore sanitario nella sua interesse. Praticamente si chiede all'assessore Saltamartini di farsi interprete presso il Governo di un aumento delle risorse e per aumentare il tetto di spesa, perché sappiamo perfettamente che abbiamo un grossissimo problema, che è quello delle mancate soluzioni del personale che abbiamo assunto a tempo determinato per il Covid e quindi tutto questo personale andrebbe stabilizzato. E chiediamo che sia possibile farlo, perché altrimenti che cosa succede? Che vediamo che le liste d'attesa vanno fuori controllo e soprattutto c'è il rischio che le nuove case di comunità, gli ospedali di comunità non abbiano personale sufficiente per essere operative. È ovvio che va contemperata anche con le carenze che riguardano i medici di Medicina Generale e Guardia Medica, che pure hanno bisogno di un rimpinguamento sia in termini di risorse umane che di finanziamenti.